Il data di impresa VDA ha raggiunto la sua nuova casa, siamo a Ponce Martè, incubatore d'impresa presso la società Extra, abbiamo davanti a noi Cristiano Revil che ha appena ricevuto il premio, ecco Revil perché tutto i lettori di impresa VDA qualcosa già sanno però parliamo un po' dei servizi che offre Extra. Extra offre tutta quella gamma di servizi che rientra nella vastissima categoria di servizi internet e cloud che vanno dai classici registrazione domini, spazio web, email, posta certificata a tutta una serie di servizi a valore aggiunto che abbiamo sviluppato internamente come ad esempio sistemi di backup online, sistemi di sincronizzazione dati su pc, tablet e smartphone, sistemi di messaggistica intelligente, quindi sms via web, sistemi di e-commerce, tutti questi servizi che servono per agevolare e ottimizzare il lavoro delle imprese. Comunque ovviamente sul sito c'è insomma tutte le indicazioni necessarie. Novità in vista come azienda? Giusto questo mese stiamo per entrare in produzione con due nuovi servizi, il primo è una piattaforma di e-commerce pronta all'uso che va bene per le aziende che si avvicinano la prima volta al commercio elettronico ma anche per le aziende che magari hanno uno storico di commercio elettronico molto importante e vogliono espandere il proprio business all'estero. il secondo è un software gestionale light via web pensato per gli artigiani e le piccole imprese, quella categoria che di solito non spendono per un software gestionale professionale. E ovviamente voi lavorate soprattutto in valle o anche fuori valle? Anche negli ultimi sei mesi abbiamo attivato diverse collaborazioni e preso alcuni clienti fuori valle e soprattutto nel torinese. Ma per questi tipi di software ad esempio avete preso anche contatti con le associazioni di categoria perché immagino che sia molto importante per loro far sapere... Esattamente, l'idea è di passare per le associazioni di categoria per poi promuovere i nostri servizi essendo targhettizzati sui loro associati. Più a lunga gittata altri progetti? Ci piacerebbe sicuramente fornire consulenza ad aziende medio grosse per aggiornare le loro piattaforme informatiche e creare delle soluzioni di cloud private all'interno delle aziende. Si può dire che voi fate comunque dei servizi molto tailor made e tagliati sulle aziende? Assolutamente, il nostro target è il 100% aziendale, non abbiamo nessun cliente privato. E comunque però non ci sono molte aziende secondo me che si occupano delle PMI, questo è un dato importante credo. Esattamente, esattamente perché è un settore abbastanza scoperto e comunque le PMI hanno esigenze da azienda enterprise ma senza le capacità di spera di un'azienda enterprise e quindi noi ci inseriamo in quel settore creando dei servizi professionali pensati come aziende enterprise ma targetizzati su piccole e medie imprese. Bene, vi affido il trattato, mi raccomando trattatelo bene. Grazie.